Cari amici del Movimento 5 Stelle, oggi abbiamo una buona notizia da darvi. È stato assegnato nella Commissione di Commercio Internazionale il file legislativo più importante dell'anno. È un file che darà fondamentalmente le linee guida di tutta la politica commerciale dell'Unione Europea alla Commissione Europea. Questo file lo abbiamo ottenuto noi del Movimento 5 Stelle, del gruppo FDD e io ne sarò la relatrice principale. Questa è una grandissima occasione per poter indirizzare le politiche commerciali dell'Unione Europea verso quelli che sono i temi a noi più cari. Sicuramente avremo un occhio di riguardo per le piccole e medie imprese perché è veramente necessario, io lo ricordo, le piccole e medie imprese costituiscono il 98% dell'intera economia dell'Europa e l'Italia è in prima linea sicuramente anche in questo caso. Noi abbiamo veramente l'occasione per fare qualcosa per queste aziende che stanno soffrendo un periodo molto difficile. Porteremo avanti la battaglia del made in, sicuramente sono tante le cose che si potranno fare e suggerire, avremo bisogno del vostro aiuto, sicuramente ascolteremo tutte le parti interessate e finalmente abbiamo un'occasione per incidere direttamente su quelle che sono le politiche commerciali, per difendere le nostre aziende dai grandi colossi cinesi da un lato ma anche americani dall'altro, sappiamo con il TTIP che cosa sta succedendo. Abbiamo un lavoro da fare che ci aspetta in autunno, ci rimbocchiamo le maniche e saremo qui in prima linea.